Dalle tasse sempre più pressanti da pagare a come rilanciare il commercio e dunque anche il turismo. Di questo si è parlato in un incontro organizzato dalla Confcommercio a Termoli, insieme all'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Enzo Ferrazzano e dall'assessore Michele Cocomazzi. Diversi gli operatori che hanno risposto all'appello, dai balneatori ai ristoratori e ai titolari di piccole attività. Differenti le esigenze tra chi ha sottolineato la necessità di creare più eventi per attrarre turisti durante tutto l'anno e chi invece ha puntato il dito contro le tasse con i balneatori che hanno fatto notare l'eccessiva pressione dei tributi locali, superiori anche ai canoni demaniali. Il motivo per cui abbiamo richiesto questo incontro con l'amministrazione comunale fondamentalmente si basa su un discorso programmatico, quello di cercare di fare sinergia e quindi creare un programma che possa in qualche modo ridare vitalità al commercio del Basso Molise, visto che il Basso Molise in buona sostanza si candida come da sempre, poi tra l'altro come la locomotiva economica del Molise. Gli assessori Ferrazzano e Cocomazzi hanno ascoltato, fatto proposta e ricordato quanto fatto dall'amministrazione in termini di commercio. Ripartendo dai primi incontri che abbiamo avuto, in cui siamo stati messi a conoscenza delle criticità del commercio e delle attività commerciali, abbiamo portato avanti tutte quelle iniziative che potessero dare una certezza del diritto ai commercianti. Difatti siamo andati in consiglio diverse volte, abbiamo approvato i nuovi regolamenti sia per le attività ambulanti, che per gli esercizi a posto fisso e adesso stiamo portando in consiglio delle modifiche in base alle nuove modifiche che sono state apportate dalla nuova normativa. Praticamente adesso diciamo che dal punto di vista delle criticità sono state tutte sistemate, così anche per quanto riguarda la fiera mensile. Seconda gente ce l'av raspato è stato abbiamo ascoltato grazie Grazie.